Buonasera a tutti, eccoci. Spero che l'audio si senta. Ho avuto qualche problema oggi con la linea, non riuscivo a connettermi. Se qualcuno mi dà un feedback possiamo iniziare questo concerto dedicato al violoncello, le composizioni di violoncello dal periodo barocco ai giorni nostri, un concerto che ho chiamato concerto di interazione. Spero che possiate contribuire a interagire con i vostri commenti, a dire ciò che vi piace, di più di quello che andrò a suonare, scrivere ciò che vi suscita, ciò che state provando nell'ascoltare quello che vi sto per suonare. Andrei a verificare se l'audio si sente, dato che la linea oggi non aiuta, sì, credo che va bene, l'audio si sente. Allora a questo punto io comincerei il concerto. Il concerto facendovi ascoltare il preludio alla prima suite di Johann Sebastian Bach per violoncello solo, una suite che sicuramente molti di voi conoscono, hanno sentito e che dirvi, buon ascolto. Scrivetemi se vi interessa sapere qualche curiosità anche su ciò che sto suonando. Magari io mi dirò qualcosa. Grazie a tutti. 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 Molti strumenti. E' musica scritta nel 1700, nel 1700, anche se la datazione non è molto certa, dato che il manoscritto autografo dell'autore non è mai stato trovato, ci sono aggiunte grazie all'opera importante di trascrizione di moglie di Bach, Anna Maria Magdalena, che l'ha trascritto, quindi il suo manoscritto ci ha permesso, insieme ad altri manoscritti, di poter godere di questi capolavori, di queste suite. Un altro pezzo che voglio farvi ascoltare, se qualcuno ha già scritto qualcosa, adesso rispondo, è un'altra danza, sapete che le suite sono un insieme di danze, danze chiaramente stilizzate, alcune di estrazione francese, i minuetti, le boulet, le gavotte, e alcune di estrazione anche italiana, alcune ritengono per esempio la giga o la corrente, e in stile, alcune in stile francese, altre in stile tedesco. Vi farò ascoltare adesso i minuetti dalla sempre prima suite, giusto per creare questo filo conduttore della serata, un filo di danza, poi andremo ad ascoltare un po' altre danze rilevite in una chiave più moderna. Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito. Grazie a tutti. 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 delle forme molto anche articolate, se vogliamo ascoltare per poco, alcuni studiosi ritengono che possono essere gli antecedenti delle più famose 6 suites di Johann Sebastian Bach, perché pare che un accadimento storico alla fine del Seicento abbia portato i musicisti che operavano nella Cappella di San Petronio, perché dovete dichiarare bancarotte e quindi fallimento, e licenziare tutti i suoi musicisti a far emigrare, in cerca di lavoro, di fortuna, i propri musicisti, oltre altri, tramite un musicista che conobbe uno di questi che precedentemente suonava nella Cappella di San Petronio, si pensa, si ipotizza che abbia potuto ascoltare questi ricercari di Domenico Gabriele. E' facile pensare che Magra abbia potuto ascoltare questa circostanza, ma in ogni caso la curiosità del grande maestro verso lo stile italiano è comprovata dal fatto, ad esempio, che studiò con grande passione, e con grande approfondimento, i concerti di Milano, proprio per far proprio lo stile italiano. Buon ascolto, spero che vi piaccia. 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 Grazie a tutti. 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 colore del suono. Un brano che ho suonato poc'anzi avrebbe un po' un sapore diverso, per esempio ve lo accetto. Questo ad esempio lo ho accordo a 4 e 15, quindi con un'accordatura diversa rispetto a quella del bloncello moderno, perché il là per la famosa convenzione di Londra ormai è assodato che debba essere utilizza il là 4 e 40, anche se quasi aprirebbe un dibattito molto lungo. Pare che non sia in linea con le vibrazioni particolarmente salutari, diciamo così ecco, ma sarebbe preferibile il là 4 e 32 come frequenza, ma non ci prendiamo troppo su questo discorso. Il suono è più ovattato, è un po' più debbo, un po' più fievole e anche diverse sono le risonanze. Ha un suono, a chi piace anche particolare, questo è giusto per fare un esempio, ma dedicherò un intero seminario, serie anzi di seminari raccontando un po' la storia del violoncello a puntate e utilizzando diversi strumenti, anche se non ce l'ho a spalla, non ce l'ho a piccolo, ma questo lo farò più in... vi faccio ascoltare un po' il barocco, per esempio spagnolo, con una ricercata, con una ricercata di Ortis. anche questa era tipica del repertorio per viola da gara e che io ho arrangiato per violuce. e che io ho a piccolo, con una ricercata di Ortis. Grazie a tutti. 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 Adesso voglio dedicare due brani al barocco italiano e senz'altro al più grande rappresentante del barocco italiano che è Antonio Vivaldi. L'allegro dalla quinta sonata è un bellissimo largo dalla quinta sonata e mi avverrò del clavicembalo virtuale. Grazie a tutti. 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 Buon movimento. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti.